Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, video collaborazione con il Marchese Biancolero. Vi invito ad andare a vedere gli altri tre video di questa collana che abbiamo fatto per la fine del 2020. Ricordo che questo parlerà di top calcio, i 5 momenti top del calcio mondiale in questo 2020, ma vi invito ovviamente ad andare a vedere anche gli altri tre video, quindi top Juve, flop Juve e il flop calcio mondiale. Ovviamente troverete due da me e due nel suo canale, quindi andate anche sul suo canale a vedere gli altri. Questi sono i 5 momenti top che abbiamo scelto per voi. Il calcio mondiale del 2020 porta sicuramente più di tutti il nome di una persona, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski con il suo Bayern Monaco ha fatto l'assoluto meno stagione e penso che questa stagione sia stata per Lewandowski il punto più alto della sua carriera, che arriva a 32 anni, quindi neanche giovanissimo. La carriera di Lewandowski è stata sicuramente costellata di vittorie e di successi, però arrivare in questo punto con degli obiettivi personali e di squadra raggiunti così come li ha raggiunti lui è sicuramente emblematico e unico nel suo genere, anche perché dà un po' di novità rispetto a quelli che sono i soliti nomi che orbitano intorno a trofei, vittorie, cioè Messi e Ronaldo fondamentalmente. E quindi sono molto felice anche dal tifoso juventino, ma comunque spettatore di un calcio molto bello, quello del Bayern Monaco, quello di Lewandowski, che sia stato appunto Robert Lewandowski a ottenere la massima consacrazione in quest'annata importante. E quindi Lewandowski è sicuramente uno dei giocatori che spesso viene un po' emarginato dal flusso mediatico, insomma così a fuori di altri che sono molto più interessanti sotto certi punti di vista, però sono contento che avere l'onore, in qualche modo, e la gloria di questo 2020 sia appunto il polacco. Ho messo l'Ione femminile, l'Ione femminile che vince la sua settima Coppa dei Campioni della Storia, quinta consecutiva, quindi eguaglia il record del Real Madrid maschile come Coppa dei Campioni consecutive, e fa un'altra stagione perfetta con il quattordicesimo titolo francese consecutivo. Una squadra mostruosa, la Juve nel finale dell'anno ha provato a fermarla a sua corsa, non ce l'ha fatta, questo lione femminile è davvero tanta roba, è una delle squadre più forti della storia del calcio, nel calcio femminile credo che sia l'esempio, proprio l'esempio su cui dobbiamo assolutamente fissare l'obiettivo, non solo a livello sul campo ma anche a livello di società. A Lua quest'anno ha anche comprato una squadra americana, il Pert, che è stato preso ed è proprietà anche quella del Lione, quindi un Lione che ha chiuso un 2020 quasi perfetto, vincendo come ho detto tutto quello che c'era da vincere e andando a cominciare a muoversi anche in terra statunitense. Complimenti a loro se è una stagione strepitosa. Mentre tutto sta andando un po' a rotoli, va detto anche questo, nel 2020, c'è una nazionale, quella nostra italiana, che sicuramente si è ritagliato uno spazio più importante. Già era iniziato questo percorso lo scorso anno, con un Mancini che ha ritrovato un po' di forza, di coesione in questa nazionale, che non è una nazionale fatta di fenomeni, ma una nazionale che è diventata squadra. Nel 2020 è stata un po' la consacrazione non definitiva che sarebbe venuta arrivare con l'Europeo spostato nel 2021, ma comunque il cammino della nazionale italiana è stato molto positivo e penso che una nazionale storica come quella italiana si stia ritagliando finalmente il posto che merita. Poi la prova del 9, la prova finale, sarà sicuramente con l'Europeo 2021, in cui verranno mesi a produrre a prova i giocatori per vedere di mantenere le aspettative create nel 2019 e specie nel 2020. Quindi sicuramente la nazionale italiana in questa fase di nazionale è sicuramente la sorpresa più gradita per tutti coloro che amano un po' il calcio delle nazionali. La stagione del Bayern Monaco, credo che nessuno possa dire che ci sia stata una squadra migliore del Bayern Monaco quest'anno. Il Bayern Monaco ha fatto una stagione meravigliosa, una Champions perfetta, un filotto terribile per le avversarie e te l'ha dato proprio il senso di superiorità, non solo tecnica ma anche fisica, organizzativa. Veramente un Bayern Monaco spettacolare e meraviglioso che ha portato a casa il triplete. Coppa di Germania, campionato, cioè Bundesliga e Champions League, ma che poi ha aggiunto già Supercoppa tedesca e Supercoppa europea. Manca il Mondiale per Kerner, ma quello si giocherà a febbraio. Ma a mio avviso non credo che il Bayern avrà problemi a portare a casa anche quello. Io aggiungo anche che con l'Under 23 il Bayern Monaco ha vinto il campionato di terza liga tedesco, quindi la nostra Serie C, vincendo tra l'altro i due derby con il Monaco 1860. Una bella soddisfazione sicuramente per i tedeschi, credo che abbiano veramente fatto una stagione che era impossibile da rendere assolutamente migliore. complimenti a loro e quindi ci stava assolutamente a mettere. Non abbiamo messo i premi individuali, non li ho messi io, perché poi parleremo di Lewandowski, ma il Bayern credo che abbia fatto terra bruciata attorno a loro. Il domenamente a parer mio è stato anche un anno di consacrazione, o meglio di consacrazione, di sbocciate in qualche modo, dei talenti. Quelli che secondo me sono i talenti della new generation, del futuro, che prenderanno i posti di quelli che ormai sono giocatori vecchi, però ancora molto forti, come appunto Libra, come Ronaldo, come Messi. I nomi sono, come di solito, gli Holland, i De Ligt che abbiamo noi, Joe Felix e Ferran Torres. Sono dei giocatori molto giovani che finalmente hanno fatto capire di che passi sono fatti e è una cosa importante, perché parliamoci chiaro, il fatto che il calcio sia ancora legato spesso molto a nomi di giocatori che ormai hanno superato i 30 anni, vuol dire che non fa sempre bene sperare per il futuro, vuol dire che manca lo stesso talento, manca in quelle che sono le nuove generazioni. Invece, in questo caso, nei 2020 sono sbocciati, sono sorti, sono spuntati, sparati a mille. Questi giocatori qua, tra cui Holland, che chiaramente è uno di quei giocatori che vorrei a Juventus, la consacrazione definitiva di De Ligt, sicuramente rispetto a quella dell'anno prima, con l'Ajax anche in una realtà di livello superiore come la Juventus, e Ferran Torres, Joe Felix e tutti quegli altri giovani. Poi, chiaramente non menziona Mbappé, che si è già consacrato nei 2018-20 anni con quel fantastico mondiale. Quindi fa ben sperare anche questa evoluzione di questi giocatori, che il 2021 e gli anni successivi, per i prossimi dieci anni, mettiamo come termine massimo, possa essere molto divertente alla pari degli ultimi dieci, con i vari Messi di Ronaldo, Sergio Ramos, tutti i giocatori di livello assoluto che hanno dominato l'ultimo decennio. Quindi questi erano i nostri cinque momenti top del calcio mondiale, e ovviamente vi rinvito ancora una volta a vedere gli altri tre video di questa collana che mi hanno fatto io e il Marchese Bianconero, ma potete vedere anche top Juve, flop Juve e flop calcio oltre a questo. Quindi andate a vederli, se vi piacciono ovviamente mettete like e iscrivetevi ai due canali. Ciao a tutti e al prossimo video.